A San Marino in questo periodo si svolge la revocazione dell'età medievale e domani sera, prima del campionato europeo di arco storico, la sfilata è affidata al corteo del gioco del pozzo di Montevarchi, un invito che testimonia l'elevato valore della tradizione della città di Benedetto. Siamo l'evento spettacolo in un campionato a livello europeo, naturalmente viene riconosciuto il nostro lavoro che sono appunto di 30 anni ormai, in cui siamo riusciti a organizzare e a far diventare una tradizione questa nostra manifestazione. Facciamo una piccola sfilata naturalmente perché portare le nostre motivazioni in un contesto straniero, straniero tra virgolette, bisogna lontano da casa, non è recepita immediatamente, quindi è una piccola sfilata e poi nella cava dei balestrieri facciamo le gare. Orgoglio massimo ovviamente anche da parte dell'amministrazione comunale. Questo può essere già all'inizio un premio per i ragazzi per uscire dai confini della Toscana e spero sia l'inizio di tante altre trasferte anche a livello internazionale. L'associazione che riesce a racchiudere in sé tanti di noi, tanti cittadini intorno appunto a questa rievocazione riesca poi a trasmettere anche quella che è la nostra storia fuori dalla nostra città, quindi questo è l'aspetto più bello. L'invito è quello appunto di continuare a lavorare insieme perché così riusciamo a promuovere non solo la nostra città ma anche le nostre tradizioni. La serata peraltro funzionerà anche da giuramento in vista poi degli eventi legati alle feste del perdono.